Un altro caso di retta abbastanza semplice è quella passante per l'origine, cioè una retta che passi però e che abbia un'inclinazione, quello che è adesso in questo caso è verso l'alto, potrebbe essere anche verso il basso o orizzontale, potrebbe essere anche verticale, però i casi orizzontali e verticali sono particolari, l'abbiamo visto un attimo fa ed è una cosa diversa. Quando l'inclinazione non è né verticale né orizzontale, l'equazione di una retta di questo tipo è rappresentata da una semplice eguaglianza di y uguale mx, dove m viene chiamato coefficiente angolare, cioè quello che dà il valore della pendenza della retta. Più alto è questo m, più ripida è la retta, meno alto è m e meno ripida è la retta. Nel caso particolare con m uguale a 0 diventa y uguale a 0, viene la retta orizzontale. Se m è negativo viene una retta a scendere. Vediamo un esempio pratico, tanto per convincerci che la cosa effettivamente funziona. Una retta come questa ha per esempio un'equazione di questo tipo, 3 mezzi x, cioè sto coefficiente angolare è 3 mezzi. Se noi proviamo a fare un paio di valori x e y di questa retta, troveremo dei punti che ci ricalcano questo disegno. Per esempio, pigliamo lo 0, se 0 è al posto della x, 3 mezzi per 0 fa 0 pure lui, se 1, 1 per 3 mezzi fa 3 mezzi, se fosse 2, i 2 si semplificherebbero, avremmo soltanto 3 e così via. Queste tre coppie di valori corrispondono a tre punti, chiamiamo a il primo, b il secondo, c il terzo. A, 0, 0 è questo punto qua, l'origine in questo caso. B, 1, 3 mezzi, 1, 3 mezzi è questo punto qua. E il terzo punto che abbiamo trovato, c, 2 di x e 3 di y, non è quest'altro ancora. Potremmo farne un'infinità e vedremo che tutti questi punti rimangono allineati così. La cosa è anche facilmente dimostrabile con la similitudine di questi triangoli e volendo uno fa una dimostrazione della... sono triangoli e rettangoli simili per cui è possibile dimostrare che effettivamente questo tipo di equazione dà questo tipo di retta. Comunque è più facile vederlo così in maniera pratica con un esempio.